Il curso oggi è una realtà patrimonio della città. Mi auguro ovviamente di aver lanciato il messaggio in cui la gente si deve regalare del tempo per poter fare un'attività fisica per se stessi, perché ormai è dimostrato scientificamente che l'attività fisica è anche un grandissimo risparmio economico per la sanità. Credo fortemente nel valore dell'attività fisica, dell'attività sportiva e di quella agonistica, che hanno dei valori straordinari a livello di formazione. L'attività agonistica naturalmente compete anche ai grandissimi campioni, per cui eviterei davvero di imitare il percorso di un personaggio come Bolt piuttosto che del Piero, perché hanno un processo evolutivo davvero molto più complicato di quello che la gente può pensare, mentre oggi siamo fortemente motivati a promuovere l'attività fisica, perché oltre ad essere un'attività che fa bene a se stessi, che rende la propria vita qualificante, ti mette anche nelle condizioni di prevenire malattie come il cancro, ormai scientificamente provato, perciò non possiamo permetterci di perdere del tempo e come piace dire sempre a me, regalatevi del tempo e fate attività fisica.